Mi sono commosso la squadra dei pompieri di Arezzo, i primi che sono arrivati a Campi, quella fatidica giornata del 30 ottobre 2016 quando ci fu quella botta grossa, proprio quella scossa incredibile. Questa sera li ho visti qui davanti al cinema Eden prima di cominciare il filmato. È stato veramente emozionato. C'erano anche loro, i vigili del fuoco di Arezzo, al cinema Eden per la proiezione del documentario sul terremoto La botta grossa. Si è trattato di un evento di beneficenza organizzato dai commercianti della Catona assieme a confesercenti a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma dell'ottobre 2016. Quei momenti delle riprese veramente erano momenti critici e il regista Baldoni veramente ha avuto la forza di tirare fuori da ognuno di noi le macerie interiori e questo è stato importante perché non ha voluto far vedere quella che è la casa grollata, quello che vediamo tutti i giorni intorno a noi, ma ha voluto i sentimenti delle persone, ha voluto tirar fuori questi e ha fatto un lavoro veramente importante che è stato premiato con il nastro d'argento, un riconoscimento molto molto importante che ha gratificato un lavoro veramente fatto con il cuore. Il gemellaggio tra i commercianti aretini e la comunità di Campi era già iniziato lo scorso giugno e proseguirà anche nei prossimi mesi. Oramai c'è una sorta di fratellanza, di solidarietà fra gli aretini e questo piccolo paese nel comune di Norcia e la loro esperienza è importante, hanno bisogno di solidarietà e è un modo per testimoniargli che gli aretini gli sono vicini. Noi collaboriamo volentieri, c'è questa solidarietà particolare tra la comunità della Catona, di commercianti che sono impegnati anch'essi in confese centi e quindi ben volentieri diamo una mano. Gli amici aretini veramente sono stati molto molto, ci hanno aiutato molto e continuano ad aiutarci con ad esempio un'altra iniziativa, il 2-3 giugno hanno organizzato un campeggio solidale presso la nostra area quindi questo è molto molto importante. Io invito tutti quanti voi a venire, visitate le terre del centro Italia, le terre colpite dal sisma perché hanno bisogno di voi, questo è il messaggio che deve passare per non far dimenticare quello che è successo perché il terremoto vero sostanzialmente c'è adesso, perché c'è un silenzio troppo assordante abbiamo bisogno veramente della gente che venga sui territori a visitare, a fare turismo, a fare vacanza perché è fondamentale.